un po' più al centro va bene no sono dieci volte che ti dico che è storto è giusto così cos'è cos'è sta musica è il natale cico sono il mese del natale con babbo natale ma non è qui se c'è qualcuno in casa io lo mangio eh dunque cico è il natale babbo natale vive in napole scusa scusa c'è un intervallo bene l'intervallo e cos'è la liponia è una regione a nord della norvegia finlandia e lo sa neanche lui della finlandia dove fa freddo e perchè sta il freddo? perchè ha le renne? sono mica come i gatti no ma buon natale scende dal camino ma qua è sempre acceso trova sempre un modo per arrivare a portarti i regali anche i frollover? si può portare anche i frollover e bisogna fare la letterina allora cosa perdo tempo qua con te vado a scriverla cico cico cico